Gentili telespettatori, buona giornata. Giorgia Meloni sfida la dittatura del politicamente corretto, del pensiero unico, della cultura della cancellazione e dice adesso faccio il presepe, qualcosa che nessuno fa quasi più. Oh mamma, oh mamma. Adesso si scateneranno quelli della dittatura, del politicamente corretto. E così la Meloni dice io faccio degli stupendi alberi di Natale, sono cintura nera di albero di Natale, invece quest'anno da alberista divento presepista. Ho deciso di fare il presepe quando non lo fa più nessuno, ho deciso di fare il presepe quando dicono che nelle scuole non si può fare perché altrimenti offendi chi crede in un'altra cultura. E proprio me ne faccio una ragione e continuo a chiedermi ma come fa un bambino che nasce in una mangiatoia a offenderti? Come fa ad offenderti una famiglia che scappa per difendere quel bambino? Come fa ad offenderti la mia cultura? Perché se si crede in Dio oppure no, in questo simbolo sono raccolti i valori che hanno fondato la mia civiltà. Una cosa vorrei dirvi, guardate che non c'è nessuno che si sente offeso dal presepe, dal bambinello e dalla famiglia che scappa, siamo noi stessi che ci censuriamo, non sono gli stranieri che dicono cancella la tua cultura, siamo noi stessi fessi che vogliamo cancellarla per dire guardate che siete tutti benvenuti e noi non vi mettiamo in difficoltà, non siete costretti a vedere il presepe, l'albero, guardate che agli stranieri non gliene frega niente, siamo noi che ci autocancelliamo la cultura, perché? Perché siamo dei fessi, dei veri e propri fessi. Bene, a conclusione dice la Meloni, ed io voglio che mia figlia lo sappia, voglio che Ginevra sappia che il Natale non è solo regaliamoci delle cose costose e mangiamoci tutto quello che c'è. Io voglio che Ginevra sappia che del Natale noi celebriamo questi valori e credo che anche voi lo dobbiate spiegare ai vostri figli. Fate il presepe insieme a me, quest'anno tutti insieme prendiamo il pastorello e facciamo la rivoluzione del presepe. Ebbene, facciamo tutti il presepe. Io ricordo che il presepe per esempio lo facevano i miei amici, a casa avevano gli interi tavoli enormi con il presepe, con il muschio, mi ricordo il muschio, la piccola cascata con l'acqua, le luci nel presepe, le statuette, la casetta. Ecco, io ricordo chi faceva questi presepi, aveva un amico che faceva sto presepe enorme e se ne vantava tutti gli anni il suo presepe con la carta stagnola per fare l'acqua, no? La carta stagnola se non sbaglio sì, diventava l'acqua, il laghetto, i re magi che camminavano sulla strada. Io vi devo dire che il presepe avevo una grossa casa da mettere sotto l'albero, era solo la cala, la casa, la capanna, chiamatela come volete, dove alla fine arrivava poi il bambino Gesù per ultimo. Questa casa è ancora casa di mia mamma, io qua con la mia famiglia il presepe faccio l'albero ma il presepe no. Ho comprato una sorta di presepe elettrico che poi non è propriamente un presepe, non c'entra niente, è un piccolo villaggio che si illumina con la musichetta di Natale, un trenino che passa dalla galleria ed esce fuori, un albero di Natale che gira. Non c'entra niente col presepe, quello che intendiamo tutti noi, però è un piccolo villaggio illuminato che ricorda vagamente quei presepi tutti illuminati. Io ricordo di aver visto il presepe anche a Varese, su Al Sacromonte, tanti anni fa, ogni cappella del Sacromonte c'era una scena con delle statue, sì ho visto anche delle mostre con dei musei, dei presepi, è una bella tradizione che spero non scompaia, anche se oggi il Natale più di ieri, perché lo era già ai miei tempi quando ero piccolo, il Natale oggi è solo che cosa mi regalano a Natale i genitori, è tutto lì. Il Natale sono i regali, se voi chiedete ai bambini cos'è il Natale è i regali, naturalmente i bambini che possono permettersi di ricevere i regali, perché il mondo è talmente schifoso che ci sono milioni o miliardi di persone che il Natale se lo sognano. Mi posso ritenere assolutamente fortunato per la vita che ho fatto fino adesso, perché vedendo quello che succede in giro per il mondo possiamo dire sinceramente di essere stati fortunati fino adesso. Fino adesso siamo stati fortunati, avete visto cosa succede nei paesi anche vicini ai nostri, cos'è successo negli ultimi 20-30 anni in tanti paesi anche in Europa, cose terribili che abbiamo sentito, quindi forse essere nati in Italia è stata una fortuna, è stata una fortuna, siamo stati fortunati e se siamo qui ancora ad ascoltare questo video vuol dire che siamo ancora tutti vivi e quindi direbbe un mio amico. E quindi fate il presepe, io non ho tempo e non ho lì la voglia di mettermi a cercare muschio, non sono tipo da presepe, quest'anno ho fatto fatica anche a fare l'albero, non ci avevo voglia, allora l'ho fatto fare i miei figli loro, io non ci ho messo, ho solo attaccato la spina delle luci e basta, e ho anche preso l'albero piccolo, perché c'era un albero grande di quasi 3 metri e un altro più piccolo di 1,80 m, stavolta ho fatto quello piccolo anche perché non c'ho più posto in casa, se voi guardate qui dietro, guardate com'è pieno, la mia casa è tutta così, piena, 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 non so più dove mettere le cose. Quindi adesso che il politicamente si scateni per i presepisti e gli alberisti, bene, quindi squillano le trombe, allarmi, 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 siamo presepisti, terror dei progressisti, vi piaciuta questa rima? Eh sì, eh sì, eh sì, terrore dei progressisti che si sono fatti anacquare i pensieri dal politicamente corretto, eh? Arrivederci a tutti e grazie. Grazie.